pad dip ovverosia sotto cinturone in dpm ex dotazione british army è composto da un materiale in cordura bordata con all'interno un rinforzo un rinforzo in materiale morbido un neoprene sul retro abbiamo una un tessuto traforato del tipo che viene usato per i giletattici tutto ben cucito di produzione militare una dismissione anni 90 2000 come funziona qual è il ruolo che svolge questa parte qua viene messa intorno la vita e appoggia sui fianchi specialmente queste parti più più larghe sopra ci viene fissato il cinturone con tutti con tutte le tasche che noi non metteremo per far vedere proprio come funziona si sganciano questi moschettoncini regolabili la taglia è unica e sopra viene appoggiato il cinturone il quale viene agganciato in questa maniera e la funzione qual è che poi viene tirato qui in base alla misura del cinturone la funzione è quella di alleggerire il peso gravoso e redistribuirlo su una superficie morbida più ampia che non gravi eccessivamente sul militare molto comodo molto facilmente indossabile questo che vediamo essendo molto ben tenuto è un nuovo di prima scelta facciamo il confronto con è un usato questo è un usato di prima scelta e sembra nuovo invece questo qua è un usato di seconda scelta sempre integro sempre la stessa cosa stesso materiale stessa tipologia però è ovviamente più usurato per cui il colore esterno è molto meno visibile comunque fa la sua funzione esercita comunque la sua funzione anche se è più sbiadito